Avevamo una scuola materna che comprendeva sia i bambini nostri interni che i bambini del secondario, col terremoto del 6 aprile tutto è finito, le casse sono levasse in sicurezza. Bebi nel cuore Onlus che è la tua vita appunto al portale A4People, anche quest'anno l'impegno per la solidarietà, che cosa si tratta? Si tratta di una quinta edizione molto ricca di novità con 7800 articoli che vanno dalla casa alla donna, all'uomo, accessori, bambino e anche una cantina di vini che vengono proposte a dei prezzi molto più bassi degli outlet ma con una qualità molto superiore agli outlet, il grande lusso alla portata di tutti con lo scopo di aiutare a costruire la casa di Sormirella e dei suoi bambini in Abruzzo, San Gregorio. Esatto, quindi tutto il devoluto andrà per questo progetto e ricordiamo quali sono stati anche i progetti di edizione in passato e tutti i progetti che appunto hanno visto poi una realizzazione. Abbiamo dedicato le ultime due edizioni, cioè la terza e la quarta, alla costruzione di un centro di accoglienza Salvatore Bahia in Brasile della comunità francescana di Betania, responsabile fra Paolo Crivelli e a loro abbiamo devoluto interamente la terza e la quarta edizione perché il nostro scopo è quello di far partire i progetti, dare lo start up, dargli la possibilità, soprattutto fargli sentire vicino alla presenza di gente che vuole aiutarli e che gli danno il coraggio di continuare perché noi siamo qua che parliamo ma loro sono là che hanno migliaia di problemi e non sanno come fare a tirare avanti. Ecco questo è il fondamento della nostra iniziativa, quello proprio di portare in casa della gente sia l'emergenza e quindi di cercare di essere aiutati ma nello stesso tempo offriamo una qualità di cose che nessuno lo può fare in quanto a noi gli vengono regalati questi articoli quindi possiamo applicare gli sconti più pazzeschi del mondo. Pliccate www.e4people.com, la moda sostiene la solidarietà. Sono Santo Versace e ti chiedo, possono la moda e il design sostenere la solidarietà? La mia risposta è www.e4people.com L'unico portale e-commerce lo proprio. E4 People e noi della fondazione Alpagamma insieme offriamo l'opportunità di acquistare apprezzi convenientissimi e gli altri articoli per tutta la famiglia e per la casa, regaliati i più grandi brand italiani. L'intera ricavata verrà devoluto ai bambini dell'Abruzzo. Clicca www.e4people.com Ferragamo continua l'impegno con la solidarietà anche quest'anno per Baby nel cuore e E4 People? Assolutamente sì, per la Ferragamo è il quarto anno che partecipiamo a E4 People e quest'anno soprattutto avendo avuto modo di verificare come sia credibile e di qualità questa iniziativa abbiamo coinvolto la fondazione Alpagamma e quindi ben 20 aziende di Alpagamma hanno partecipato a questa iniziativa con un progetto concreto, la ricostruzione di una casa famiglia in Abruzzo, la casa di San Gregorio e sapendo che ci possiamo affidare ad un'organizzazione assolutamente di qualità con progetti concreti e veri.